Gentili telespettatori, buona giornata sul caso Freccia Rossa. Viene chiesto ad Arianna Meloni che cosa pensa del marito e lei risponde sono fiera di mio marito, andava a lavorare, anzi sono stata orgogliosa di lui, ha trovato una soluzione. Problem solving, c'è un problema, trovi la soluzione. Quindi orgogliosa del marito che per andare a lavorare ha trovato una soluzione e ha fatto fermare il treno. Dice orgogliosa, beh su altre cose l'ho criticato ma su questa proprio no. Dice lui è andato a lavorare. Grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Arrivederci e buona giornata.